58 polluzione ghiandolare metto l'avviso del cellulare su vibrazione e mi metto il cellulare nella vagina poi mi faccio telefonare dal mio uomo da un uomo che mi piace e godo un mio amico omosessuale si mette il cellulare nel sedere fa lo stesso anche questo è amore commento questo non è amore ma una polluzione ghiandolare non è nemmeno il corpo astrale che fa l'amore ma solo il corpo fisico